Siamo all'ospedale della Fratta nel reparto di chirurgia generale con il dottor Gaspare Andrea Gerardi che ha fatto recentemente degli interventi interessanti da un punto di vista flebologico. Di cosa si tratta dottore? Sono degli interventi mini-invasivi, in realtà si cerca di dare una completezza di trattamento ai nostri pazienti. Da linea guida internazionale oramai è ben noto che dopo gli interventi laser e radiofrequenza siano da preferire alla chirurgia tradizionale interventi mini-invasivi quale uso di colle o di scleroterapia con MUS. Questo tipo di trattamento è un trattamento non solo mini-invasivo ma che potrebbe essere effettuato in regime ambulatoriale. Il paziente torna alla sua vita normale nell'arco di mezz'ora. Nel frattempo il manuale di flebologia ambulatoriale redatto dal dottor Gerardi insieme ad altri colleghi è stato tradotto in altre lingue. Questa è una grossa soddisfazione, effettivamente c'è una nuova tiratura in inglese perché la grossa richiesta è stata anche a livello internazionale e questo non solo fa piacere per un discorso di collaborazione nel redigere il testo ma perché vuol dire che c'è ancora interesse riguardo questo tipo di branca e a livello non solo italiano ma che c'è un interesse culturale a livello mondiale.